Un aggiornamento per lei e per chi ci segue da casa, ne abbiamo parlato a lungo e poco fa dai suoi social Maria Rosaria Boccia, la donna che da settimane oramai tiene sulle corde il governo, ha dato la sua versione dei fatti Vengo accusata di essere una ricattatrice ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto Sto difendendo la mia dignità e il mio modo di essere donna, sono stata ingannata Ma non permetterò che la mia storia venga strumentalizzata dal cinismo Ma chi davvero ha fatto gossip? Io, lui, ovviamente riferimento al ministro San Giuliano O l'altra persona, sfruttando un momento strategico per il paese L'altra persona, tra virgolette, sembra proprio indicare o farci dedurre che si stia riferendo a Giorgia Meloni